Siamo qua a Riola Sardo con GP21, Gautier Polen, nuovo acquisto del team HRC, in realtà un ritorno alle origini perché Gautier Polen ha cominciato il motocross da professionista con la squadra nella quale è. Gautier Polen viene a Riola Sardo, gli internazionali d'Italia MXC di 2015 per testare, vedere, verificare il livello. Come stai Gautier? Sto molto bene, siamo stati qua in Sardinia, per me è la prima volta che vengo qua, è molto bello per fare della moto, abbiamo fatto il photoshoot, un po' di test con la HRC, sono contento di venire qua, vengo qua più che altro per provare la moto, più che altro che di guardare gli altri piloti, conosco già come girano però non so dove sono fisicamente, proprio per essere con i giapponesi, prima gara, essere con tutti e no, sono molto contento, ho fatto il giro della pista, è bellissimo. Noi siamo molto contenti che il tuo debutto sulla Honda HRC, sul CRF450 RW sia proprio qui con noi di Offroad Pro Racing perché è una prima assoluta mondiale, speriamo che tutto si svolga bene. La pista mi dicevi che è molto molto bella e girare qui non è facile, non è per tutti, abbiamo visto che tu hai fatto dei passi da gigante nella sabbia l'anno scorso, abbiamo visto delle verifiche in gare come quella di Valkensburg dove purtroppo poi ti sei fatto male ma non per colpa tua, girare qua, l'hai già girato in prova, l'hai provata questa pista? No, proprio come ho detto prima, è la prima volta per me qua in Sardegna, comunque non ho mai girato, però è vero che ho già visto delle video di qua, la pista di Rio-Lasardo, è proprio bellissima, a me piace salita, non è proprio, non sono salita alt, però sono un po' salita, discesa, proprio tecnica, a una parte che ci sono molto di piccoline curve, da una parte c'è molto di velocità, poi non è larghissima, comunque ci sarà molto di buche, a me piace, mi piace di più quando è più tecnica, quando siamo aperto a manetta, la prima volta per me qua, la prima partenza sulla Honda HRC, sono molto contento di essere, sai, quando ti alleni tutto l'inverno, vuoi arrivare alle gare, sono molto contento.